Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti degli amministratori di due società alberghiere di Ischia. L'ipotesi è truffa ai danni dello Stato per un importo pari a 339 mila euro. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della seconda sezione della Procura della Repubblica Partenopea. In particolare le indagini sono scaturite dall'approfondimento di una serie di operazioni finanziarie anomale che sarebbero intercorse tra le stesse società, la cui titolarità sarebbe riconducibile al medesimo gruppo imprenditoriale. La documentazione bancaria esaminata avrebbe fatto emergere che a fronte di un finanziamento coperto con garanzia pubblica pare a circa un milione e mezzo di euro, elargito per fronteggiare la crisi pandemica da Covid, una parte della provvista, ossia 339 mila euro, sarebbe stata destinata dalla società beneficiaria a favore di un altro soggetto collegato, che a sua volta l'avrebbe indebitamente utilizzata per finanziare un investimento immobiliare.